Volevano vincere! 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 Sicuramente è stata un'emozione indescrivibile, non la dimenticherò mai. Grande Gigi! Ci sono delle immagini che rimangono probabilmente nella notte di Doha, una è forte quando baci il logo del Milan, è un bel segnale per i tifosi. Ma sì, sono legatissimo al Milan, è la maglia per cui ho tifoso sempre da bambino, quindi sono legatissimo al Milan e non lo voglio più. Ti amo, ti amo, ti amo! L'altro Gigi che ti ha detto a fine gara? Perché ha vinto il Milan, ha vinto bene, non ha vinto casualmente il Milan. No, sono andato ad abbracciarlo, mi ha fatto i complimenti, è detto la prima Coppa, no, mi ha fatto i complimenti e basta. Cresce adesso anche l'aspetto di Votoro a questa squadra? Cresce adesso? Ma sicuramente, è una crescita molto importante, abbiamo lavorato tanto e sicuramente questa vittoria è frutto del lavoro. Dottor Gagliani, quanta soddisfazione c'è a vincere questo torneo? Moltissimissimissima! Abbiamo perso la finale in Coppa Italia, credo abbastanza immeritatamente, quindi ha fatto uno a uno, va bene così. Ci credeva davvero tanto? Ma no, ci credevamo tanto, sappiamo che è una partita difficile, ma insomma sapevamo che abbiamo sempre fatto con il Juventus quest'anno delle partite molto equilibrate. Sono da un po' stanchi però, sarà una bellissima serata. Che clima c'è stato anche all'interno di quel volo che da anni non era così felice? Ma cioè io quello prima non lo conoscivo, ma c'è una bella soddisfazione, anche orgoglio da parte dei ragazzi, un buon inizio. Quando siete pronti, il giudizio è l'ultimo. Mauro, guarda, se tu vieni qua prendi il mister.